Ciao a tutti, oggi facciamo il video unboxing degli stickers della Lidl questi li ho ricevuti alla Lidl e buon, cominciamo purtroppo uno è già stato aperto e trovai questo sono dei personaggi con la ventosa questo qui secondo me assomiglia a un gelato forse sono io che vengo gelati dappertutto in quanto in questo periodo fa molto caldo lo mettiamo qua, primo personaggio che ho trovato secondo stickers lo andiamo ad aprire in questo momento vediamo cosa ho trovato ah questo è un funghetto terzo stickers cos'è questo? un cornetto e dai almeno hanno colori molto simili e stanno bene assieme guardate questo invece non c'entra niente eccoli qua gli stickers che ho trovato io e buon ciao alla prossima e al prossimo video ciao 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 Grazie.